L'associazione Onlus Help SOS Salute e Famiglia organizza per domenica 19 marzo allo stadio comunale di San Severino Marche l'incontro di calcio solidale tra la nazionale italiana Attori e la squadra Campioni per le scuole, formata da alcuni grandi ex giocatori e vecchie glorie locali. Come sarà strutturata questa manifestazione che inizierà dall'ora di pranzo? Sì, alle ore 13.30 e abbiamo proprio deciso di far giocare i ragazzi, far scendere in campo proprio loro che saranno protagonisti, i ragazzi dell'ITTS di San Severino Marche e il Tachi Venturi, i ragazzi delle scuole medie e dell'Ipsia. A tal proposito abbiamo scelto proprio di far giocare il figlio del ex giocatore Stefano Tacconi, Andrea Tacconi appunto, e Mattia Schillaci, il figlio del grande Totò, per appunto incrementare questa bellissima idea che ci è avvenuta. La partita inizierà alle ore 15.30 presso lo stadio comunale di San Severino. A questa partita hanno aderito molte associazioni e è in collaborazione con la Proloquo di San Severino Marche e abbiamo il patrocinio del comune. Abbiamo già subito un nome, è quello di Raimondo Todaro, direttamente da Ballando con le stelle, ma anche attori che non potranno partecipare fisicamente ci hanno dato il loro contributo anche online, grazie a Facebook. Possiamo ricordare Simone Gandolfo, direttamente da RIS, che incita appunto tutti quanti a venire alla partita, e Francesco Martino, direttamente da Catturandi. Avete pensato anche di inserire l'animazione per i più piccoli? Avremo l'animazione del Valigia delle Meraviglie, un'associazione locale, ma anche dei Vip Clown, e quindi verranno i Vip Clown in tanti nasi rossi di tutta Italia. L'incasso dell'incontro e tutti i fondi raccolti saranno destinati ad una buona causa, in questo caso, come dicevamo poco fa, ai ragazzi delle scuole settempedane. Sì, esatto. Noi non andremo a costruire un nuovo plesso per le scuole, ma andremo a finanziare tutte le varie attività, le varie attrezzature e i vari progetti degli alunni, perché attualmente sono senza laboratori e quindi ne hanno veramente bisogno. Inoltre vi voglio ricordare i punti vendita dei biglietti dove si possono acquistare. Attualmente abbiamo vari punti vendita a San Severino, presso la Proloco, il bar centrale, il bar da Pino, l'Idea e la Forma e Roberto Parrucchiere. A Tolentino abbiamo il bar Zazzaretta, l'hotel 77, a Cingoli il bar dei Tigli e la Rocca Abbey. A Passo di Treia si possono acquistare i biglietti presso il bar Roma e a Porto Potenza presso la Croce Rossa del Comitato Locale. Inoltre possiamo anche ricordare che c'è la vendita online del biglietto virtuale. Significa che chiunque non possa essere presente fisicamente può acquistare dando un piccolo contributo che a noi fa più che piacere. Vogliamo ricordare il prezzo dei biglietti? Sì, sono 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 6-14 anni e i bambini più piccolini entrano gratis. L'associazione si occupa di collaborare con le varie associazioni di San Severino ma anche associazioni private e pubbliche. In più organizziamo eventi come appunto questo qui della partita solidale e convegni. Poi andiamo a tutelare le categorie vulnerabili e cosa principale e fondamentale è quella della difesa legale delle persone a rischio. Come possono essere i bambini, le mamme, le mamme con figli piccoli, eccetera. L'associazione è nata a luglio del 2016. A luglio è stata inaugurata ma il tutto è iniziato molto prima, cioè con la chiusura del punto nascite avvenuta a gennaio del 2016. Vogliamo invece ricordare, abbiamo citato prima qualche nome di qualche attore della nazionale, qualche ospite che avete chiamato per la squadra campioni per le scuole. Sì, ci hanno dato loro conferme il settempedano Fabrizio Castori, per noi è stata una gioia, e anche il settempedano Felicioli, giovane anche io. Poi avremo Marco Mancinelli, che ha giocato in Serie B, poi avremo Francese, che è preparatore dei portieri, poi avremo Stefani, che è un ex giocatore della Fiorentina, e tra i settempedani importanti ricordiamo Ruggeri e Travaglini. Qualche ringraziamento per chiudere? Sì, appunto, volevamo ringraziare la Prologo, il Comune di San Severino Marche, le varie associazioni che ci stanno aiutando e che ci stiamo collaborando, la Croce Rossa Locale di San Severino Marche, l'Avis, Edolingua, le varie associazioni sportive, tra cui la Settempeda, la Polisportiva Serralta, il CSI, che ci aiuterà con gli arbitri, il Volley e la Rotellistica. E tutte le persone, appunto, che ci stanno aiutando e che ci vorranno aiutare sono ben accette. Vi aspettiamo tutti quanti il 19 marzo dalle ore 13.30 a San Severino Marche per questa partita solidale.